Con il numero 13, con il numero 5 Suma Oro, con il numero 6 Teatre, con il numero di Bernalovic, con il numero 17 Modelli, con il numero 21 Soriano, con il numero 29 Silvestri, con il numero 30 Schauten, con il numero 32 Svabber, con il numero 99 Parallel. Disposizione dell'allenatore Sinisa Mijajlovic, con il numero 22 Barri, con il numero 2 Dix, con il numero 4 Monifazi, con il numero 7 Orsolini, con il numero 8 Dominguez, con il numero 10 Sansone, con il numero 14 Viora, con il numero 15 Baillet, con il numero 19 Santander, con il numero 20 Ebiche, con il numero 55 Vignato e con il numero 71 Catius. Arbitro della partita, signor Marinelli, i suoi ssn di Berretti e Paganessi, corto uomo a miele, Alvar Maggioni, assistente Alvar Zufferli. E adesso, tutto il mezzo, oggi più che mai, fuori la voce per i nostri Leoni, con il numero 1 Miki, con il numero 5 Antonio Junior, con il numero 14 Tomas, con il numero 21 Mikael, con il numero 23 Sofiane, con il numero 31 Mattia, con il numero 32 Capitano Pietro, con il numero 33 Domen, con il numero 37 Aless, e con il numero 55 Ricciano, allenatore Andrea, a disposizione con il numero 34 Bertinato, con il numero 8 Tesman, con il numero 9 Zame, con il numero 10 Aram, con il numero 16 Fiordidino, con il numero 17 Jonsen, con il numero 19 Urman, con il numero 20 Nani, con il numero 27 Busio, con il numero 40 Macachi, con il numero 42 Perez, e il numero 77, sempre e comunque, forza Leoni!